Recuperate dai fundali del Golfo di Policastro, otto reti fantasma e terminata l'operazione di bonifica che per lunghi giorni ha impegnato gli uomini della Circondario Marittimo di Palinuro. Un'attività che ha interessato Sapri, Villammare, Palinuro e Marina di Camerota e che rientrava nell'ambito di una più ampia campagna nazionale comunicativa sul tema della sensibilità ambientale, nata nel 2019 dalla collaborazione tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e l'allora Ministero dell'Ambiente. Un'operazione che vede i cinque nuclei subacquei della Guardia Costiera impegnati lungo tutto il litorale italiano nell'attività di recupero delle reti da pesca abbandonate volontariamente o accidentalmente sui fondali marini, specialmente in aree di particolare pregio ambientale come il Cilento. L'attività del Circondario Marittimo di Palinuro è partita lo scorso anno con una fase preliminare di raccolta di informazioni e segnalazioni curata dai militari della Guardia Costiera sul territorio. Grazie alla preziosa collaborazione dei diving locali e delle categorie professionali subacquee è stata realizzata una vera e propria mappatura. Dai fondali del Golfo di Policastro sono state recuperate otto reti abbandonate, una nelle acque di Palinuro, due a largo di Marina di Camerota, quattro nel porto di Sapri ed una a Villammare. Si tratta di veri e propri rifiuti che se lasciati in mare, precisa il capitano Amalia Mugavero, danneggiano l'habitat marino a causa della dispersione delle microplastiche e costituiscono delle vere trappole per le specie marine. Inoltre, aggiunge, rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza di subacquee e bagnanti. Le otto reti fantasma recuperate verranno consegnate ad una ditta campana che si occupa proprio del riciclo di materiali come nylon, fibre sintetiche e materie plastiche. Grazie.